buongiorno a tutti benvenuti alla rassegna stampa di oggi giovedì 3 dicembre 2015 sono le 7.30 in diretta sul canale 17 del digitale terrestre su fano tv c'è come sempre l'occhiata ai giornali che diamo e daremo tra pochissimo non prima però di aver dato uno sguardo al santo del giorno oggi è San Francesco Saverio e al tempo il sole sorto alle 7.23 e tramonterà le 16.32 il tempo dicevo per la giornata di oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso ad eccezione del litorale che sarà invece interessato dalle nebbie e da nuvole basse solo localmente diradate dal sole le temperature sono in lieve diminuzione i venti di brezza leggera per la giornata di domani ancora una giornata più o meno con cielo sereno poco nuvoloso con temperature senza variazione di rilievo poi vedete peggiore nel senso che la nuvolosità in particolare nel pomeriggio aumenta in lieve diminuzione sono le temperature nei valori minimi i venti sono di brezza leggera allora avremo comunque tempo stabile senza pioggia per il fine settimana e pensate per l'intera settimana entrante andiamo adesso a leggere le notizie uno sguardo questa mattina anche al nostro sito internet vi ricordo che il nostro sito internet occhialanotizia.it è sempre aggiornatissimo con le notizie in tempo reale tant'è che anche ieri sera e qui me ne scuso davvero con le centinaia di migliaia di persone che sono entrate per per aggiornarsi sull'incidente che c'è stato ieri sera di cui parleremo tra poco anche attraverso i giornali ieri a bellocchi hanno fatto di fatto mandare il in tilt il nostro sito adesso cercheremo di correre ripari non dipende certamente da noi dipende dal server adesso cercheremo anche oggi di capire in che modo in che modo risolvere questo problema comunque vedete questa è la nostra pagina la nostra pagina di internet in primo piano lo spaventoso incidente a bellocchi di ieri un morto e cinque feriti all'interno troverete anche il tutte le fotografie così come la dinamica di quello che è successo le fotografie di questo pauroso schianto ieri che ha coinvolto due automobili sei persone cinque ferite una deceduta purtroppo nel corso appunto di subito dopo l'impatto con l'automobile con l'altra automobile poi un'anziana investita a calcinelli un'altra un'altra immagine un'altra immagine con il racconto di quello che è accaduto adesso andiamo invece a vedere i giornali e ripartiamo proprio ripartiamo proprio da qua dal dall'incidente di bellocchi ecco il resto del carlino schianto al rotatorio muore un pensionato due auto si sono scontrate in via inaudi vicino al supermercato la vittima è un fanese di 78 anni rimasto intrappolato tra le lamiere cinque le persone ferite il tratto di strada è di per sé pericoloso forse la nebbia ha aggravato la situazione ma più che la nebbia sicuramente l'alta velocità con la quale andava una delle due automobili in particolare un SUV una Hyundai Santa Fe l'altra sempre su questo sempre su questo argomento c'è anche il corriere adriatico con le fotografie di questo terribile schianto morto e cinque feriti scontro tra due auto a bellocchi la vittima è Salvatore Lamacchia di 78 anni gravissima anche la donna che viaggiava con lui all'interno della Y10 l'incidente mortale avvenuto alle 19.30 di ieri in realtà la chiamata all'ambulanza al 118 è arrivata alle 19.05 ma è chiaro che questo nulla da dire insomma quando si è lì anche noi ieri sera abbiamo detto 75 anni in realtà ne ha 78 ma tenete conto che non è facile raccogliere anche informazioni comunque adesso questo poco conta alle 19.30 dicevo ieri nella zona artigiana di Bellocchi nel terribile schianto ci sono sono rimaste coinvolte due autovetture al momento dell'incidente in tutta la zona c'era la nebbia però come abbiamo anche ricordato ieri nel corso del collegamento in diretta lì la situazione è particolarmente pericolosa perché perché è una rotatoria che non è affatto segnalata è poco segnalata si vede poco si arriva lì e non ci si accorge ma soprattutto soprattutto c'è un rettilineo si tende a tirar dritto quindi senza fermarsi ecco allora che bisogna segnalarla prima magari anche con quei segnali luminosi che in qualche modo attirano l'attenzione degli automobilisti anche quelli che in quel tratto corrono particolarmente ma c'è stato un altro incidente ieri un altro incidente grave a Calcinelli questa volta lo andiamo a vedere sempre sul resto del Carlino siamo sulla pagina di Fano vedete un'anziana travolta da un'auto all'incrocio e questa è la fotografia che si riferisce appunto al sinistro di ieri la donna è stata ricoverata all'ospedale di Pesaro non sarebbe in pericolo di vita anche se le sue condizioni è una donna di 79 anni sono comunque giudicate serie è stata investita ieri mattina da una macchina a Calcinelli erano le 11 e la signora stava attraversando a piedi la carreggiata in via Oriani sempre a proposito di incidenti un'altra un'altra notizia che arriva questa volta dalla Pergolese da Mondolfo dal comune di Mondolfo uno schianto frontale anche qui due feriti e il traffico in tilt anche in questo caso l'imprudenza l'imprudenza di un ventunenne del posto che guidava un Audi TT pare che abbia secondo i rilievi secondo le testimonianze eccetera abbia fatto un sorpasso abbia sorpassato un camion dall'altra parte stava arrivando una signora di 77 anni con la quale si è scontrata frontalmente e quindi insomma anche qui non per fortuna non è grave non sono gravi però ecco l'imprudenza in questi casi no quando ci sono queste code su questi rettilini viene spontaneo sorpassare e perdere sembra che se uno perde due minuti gli tolgono un litro di sangue insomma in realtà poi si perde la vita in due minuti quando uno fa queste sciocchezze bisogna stare attenti quante bugie sull'istituto battisti perdita dell'autonomia scolastica la fondo di forza italia e lega fa discutere questo caso dell'accorpamento degli istituti scolastici con il commerciale e turistico battisti che il dal prossimo anno perderà la sua autonomia per dar vita con gli istituti volta olivetti seneca archimede al polo tecnico quindi verranno uniti ancora cronaca ancora cronaca questa volta dalla pagina di peso del pian del bruscolo a tavuglia muore a 51 anni dopo l'ecografia shock in ambulatorio medico luciana mascarucci è spirata davanti al marito e allo specialista che l'aveva appena visitata è accaduto venerdì mattina in uno studio di padiglione di tavuglia luciana si era presentata all'appuntamento intorno alle 10 e 30 mezz'ora dopo era già morta cadavere in mare al moletto è una pensionata di assisi di 71 anni non presenta segni di violenza il corpo di questa donna è stato ritrovato ieri intorno alle 17 sugli scogli prospicenti il moletto l'altra notizia l'altra pagina del carlino da fano e valle del cesano va al funerale del padre ma trova i carabinieri ricercato finisce in manette aveva abbandonato moglie e figli sette anni fa di fatto gli sono stati fatali questi funerali dell'anziano padre dopo anni di latitanza un ricercato originario di pergola è finito nella rete delle forze dell'ordine al suo rientro dalla città nativa per partecipare all'esequio del genitore il protagonista è un 58enne residente a mondolfo ma di fatto domiciliato da anni a winchester che si trova nell'inghilterra del sud dopo tutte queste brutte notizie una bella notizia invece è quella che riguarda questo giovane ve lo faccio ve lo evidenzio con il pennarello giallo eccolo qui questo giovane che si chiama pierre ed è una bella storia una bella storia perché pierre è disabile il titolo ovviamente è disabile a chi perché pierre adesso è pronto per il lavoro un'assunzione a tempo indeterminato per un ragazzo down dall'istituto alberghiero alla cooperativa tkv quelle belle storie che quando quando succedono quando le leggi insomma ti ti tirano su anche il morale perché insomma vuol dire che non ci sono solo le belle fiabe ma c'è anche la realtà a volte che dà queste belle notizie allora invece tornando adesso senza sta troppo a parlare dell'albero di natale di fano che comunque nel bene o nel male sta facendo parlare di sé eccone un altro questa volta poi tra l'altro visto così verrebbe da dire il nostro è un super albero che ancora vabbè certamente dovrà essere finito terminato però anche qui lo vedremo alla fine sarà un albero scultura a urbino sale la curiosità sarà alto 12 metri avrà otto facce con quattro livelli nasce dall'idea di fare qualcosa che rappresenti la città come fu per le uova l'artista è ermes ottaviani che ha offerto il suo lavoro come omaggio alla città allora adesso cambiamo giornale e apriamo il corriere adriatico caos siamo sulla pagina di pesaro caos al campus e telecamere ko viabilità in tilt due volte al giorno all'arrivo e alla partenza dei 5.000 studenti la sicurezza è a rischio fuori uso la centralina dei quattro apparecchi di video sorveglianza appello alla comune di pesaro e alla provincia l'altra pagina invece è quella di pesaro e urbino migranti e lavoro patto con l'unione dei comuni firmato in prefettura ci sono anche urbino sant'angelo e mercatello e giovani stranieri coinvolti dalle amministrazioni in maniera libera volontaria e gratuita appunto svolgeranno dei lavori come dire socialmente utili possiamo dire anche così ma insomma è una bella è una bella cosa che fa bene anche e soprattutto probabilmente anche a loro che sono ospiti in questa terra e che si danno da fare per per dare una mano alla comunità che li ospita e alla collettività trivellazioni siamo sulla pagina di Fano anche qui da calcinelli la notizia di cronaca dell'investimento di questa donna di 78 di 79 anni di cartoceto e poi sotto invece le trivellazioni i 5 stelle maggioranza e sinistra contrarie solo a parole secondo il movimento non si è cercato di fermare il programma in atto limitandosi a impegni futuri non sto a perdere tempo su che cosa sono le trivellazioni ve l'abbiamo già detto con lo sblocca Italia di fatto queste grandi società petrolifere possono arrivare in Adriatico e cominciare a fare i buchi nel nostro mare e per cercare se c'è il petrolio se c'è roba interessante per da poter vendere questo è tradotto in soldoni il carnevale il carnevale di Fano dà lezione di antipolitica per illustrare la voce l'enciclopedia treccani pubblica la foto del carro su grillo di Ruben Mariotti insomma questa è una bella soddisfazione il presidente dell'ente cecchini dice siamo onorati la satira materia degli impareggiabili maestri della carta pesta e insomma questa è davvero una bella soddisfazione andiamo la treccani è la più grande enciclopedia italiana insomma per l'outlet invece preoccupazione generale questo grande centro commerciale a Mondolfo che a Marotta che alcuni vorrebbero altri invece no pergola unita che è una lista invita la giunta a sostenere il piccolo commercio Borgiani interroga il partito democratico poi anche qui la notizia dell'arresto di quell'uomo che è andato all'obitorio davanti alla salma del padre ed è stato arrestato stava piangendo sulla salma del padre all'ospedale di pergola quando si è visto scattare le manette ai polsi poi battaglia sulla nuova palestra monte maggiore al metauro veleni e burlò burlò in azione l'ex sindaco verdini si è visto firmatario di un intervento mai scritto e dice si devono dove si dice che si devono dimettere praticamente tutti andiamo a leggere anche l'altra notizia perché questo è importante io quando fanno queste riunioni questi appuntamenti dove spiegano come evitare i raggiri e le truffe soprattutto rivolte agli anziani ecco mi soffermo sempre un attimo vi do anche le coordinate per partecipare perché l'informazione è sempre utile allora il maresciallo domenico pellegrino che vedete in questa fotografia qua tiene un ultimo appuntamento dedicato alla prevenzione di frodi truffe e raggiri alle persone più deboli e a quelle anziane in particolare in programma dunque oggi a Mondolfo alle 18.45 al centro socio sportivo in via Amato 4 ok quindi chi sta da quelle parti chi può essere da quelle parti insomma vada lì perché e ascolti bene come evitare di essere truffati ok poi Senigallia esplosivo a gas scusate esplosivo e gas assalto a due banco ma guardate come hanno ridotto questa filiale della banca di credito cooperativo di corinaldo alla nevola e da oltre 50 hanno preso 50 mila euro alla veneto banca a maiolati insomma 29 mila euro alla bcc e poi 50 mila alla veneto banca a maiolati ha fatto un disastro ok poi l'altra velocemente solo la pagina principale del messaggero è quella di fanno allora siamo in chiusura sulla nuova banca delle marche aiuti dal governo speranze per gli obbligazionisti il viceministro Morando dice allo studio misure per tutelarti tutelarli poi l'amministratore delegato della nuova good bank dunque goffi goffi e dipendenti dice affrontate i clienti arrabbiati che sono arrabbiati a testa alta siamo più forti dei prima insomma ci vuole anche il coraggio ma comunque siamo solidali chiaramente con con gli impiegati che probabilmente non tutti avranno responsabilità qualcuno sì ma non tutti nasce un comitato contro il distributore in via solferino i residenti dicono no alla gpl dice troppo vicino alle case poi anche qui niente telecamera il campus scolastico e sotto il freddo freddo al mare caldo invece sui monti l'ultima pagina è quella di fanno andiamo a vedere subito sul messaggero ospedale l'ospedale unico seri cerca alleati per non mollare sul sito di chiaruccia martedì prossimo ci sarà il consiglio comunale con ceriscioli e i vertici della società della sanità locale i partiti fanesi in ordine sparso sul sito ma il sindaco spera nei comuni vicini la lista noi città è pronta a fare le barricate ma il suo capogruppo riccardo severi si dice favorevole al titolo a titolo personale all'ipotesi di fosso seiore poi ancora sotto ancora sotto ecco qua si inaugura la mostra l'area l'arca archeologica della domus torna a ospitare iniziative culturali poi sotto la cronaca la cronaca con l'incidente poi mi fermo con questa notizia qua di spalla alberi di natale vittorio sgarbi boccia gli allestimenti di fano e di pesaro ed è tutto grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa che torna come sempre domani mattina alle 7 e 30 vi ricordo stasera alle 20 e 30 invece il nostro telegiornale buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti